Buona la prima per la seconda edizione della manifestazione I Vasci e i Vichi di Castellabate organizzata dall'Associazione Paesanamente. Un'atmosfera magica alla riscoperta della quotidianità dei tempi antichi ha accolto i visitatori che hanno partecipato alla prima serata. Gli appuntamenti continueranno il 26 e il 27 dicembre e il 5 gennaio 2020 sempre nel centro storico di Castellabate a partire dalle ore 19 e 30. Cosa ne pensi di questo evento? Fantastica come al solito, fantastica. Cosa mangerai? Pizza, pizza sì, pizza. Facciamo gli auguri di Buon Natale. Buon Natale a tutti, grazie. Tu cosa stai impersonando? Lo spazzacamino, auguri di Buon Natale. E cosa ne pensi di questa festa? È una buona festa, è una buona festa sì. Bene, cosa avete mangiato? Un sfionzo. Ah e com'era? Era buono, auguri di Buon Natale. Noi siamo di Avellino. Avellino e vi trovate qui a Castellabate? Sì, siamo venuti a posto. per l'occasione. Molto affascinante, molto caratteristico. Ah benissimo. E cosa avete degustato? La farinata? Farinata sì. Farinata. Auguri a tutti. I scauratieli. In effetti portiamo avanti la nostra tradizione, sono i dolci che facevano i nostri nonni, diciamo un dolce povero. Buon Natale e buon anno a tutti. Questa è la seconda edizione di questo evento tra Vasci e Vichi. È nata l'anno scorso l'idea di dare vita a questi vicoletti un po' sconosciuti di Castellabate. In realtà è stata proprio questa la decisione di voler rappresentare scene di vita quotidiana. Quindi in questi appunto includere antichi mestieri. Abbiamo, non so se avete visto, c'era il mago, c'era lo scrivano, la farnata come piatto tipico, oltre al magari alla lagane ceci o le pizze fritte, le zeppole, quelle tradizionali o con alici, le pizze fritte, la pizza al forno e poi come i dolci gli scauratiedi. Abbiamo appunto deciso di ricreare scene di vita quotidiana. Allora perché non includere magari una scena come c'era, che secondo me è bellissima quest'anno, è nata dall'idea soprattutto dei partecipanti, di voler ricreare una scena come a Casa Rufattore, dove tanti personaggi danno vita a quella scena. Ci sono le signore che stirano, c'è chi cuce, ci sono i mariti fuori che preparano i loro arnesi per coltivare la terra. Quindi veramente abbiamo deciso di voler dar vita a scorci di vita quotidiana. C'erano le lavandaie e tanta musica. Io auguro a tutti un buon Natale e vi aspettiamo qui a Travasci e Vichi il 26, il 27 e il 5 gennaio. Grazie a tutti.